Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e per la scopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.